allora facciamo così perché io conosco benissimo io so bene a me e so bene io come funziono io so benissimo come funziona io ora apro il fresh faccio due multi sul fresh tutti e due saranno vuote pullo sul sul mio normale e mi esce la carta primo allora primo giro fresh fresh 4 ssr 4 gaccia main 1 ssr per ora no no ma io faccio la ricerca non voglio un minuto pansella faccio per la ricerca sui è un asiatico unnen asiatici i reggi unere sul sudamericano è un difensore sul nel difensore sudamericano e non ci di sudamericano non nel uccide sudamerica e l'uscia sudamerica non è in oggetto sudamericano in America non sono solo gli europei e lontano un è il difensore mamma mia mamma mia sta venendo infarto no 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 bucchina è mamma che che s сцен läuft muller blu a bucchine mamma troia vai vai la mia testa sta macinando vai a un giro un giro solo vuota ok sicuramente c'è l'SSR ma si ma si si 150 e 105 cinquat